Un grande bravo, sono qui in presente Vice Necco! Deve sentire un po' di letto, quello se ci vuole spettare, come se ci vuole spettare, come si sa? Ma hai visto un negozio così pieno? Ok, ok, ci siete? Sì! Va abbastanza caldo per tutti, quindi l'atmosfera va bene Marco! Abbiamo a disposizione anche le discerne per qualcuno se le volete solo per oggi a pezzi stracciati Sì, abbiamo il terreno! Allora, allora, check, check, check! Di adesso! Grazie a tutti.